Una squadra che adotta il 4-3-3 in ogni circostanza, sposando in pieno la cosiddetta mentalità offensiva, non può che imporre il proprio modo di vedere le cose. La conquista del risultato arriva in un secondo momento e conseguire un obiettivo per l'Aci Sant'Antonio adesso vuol dire sbarcare in promozione. Ad un paio di settimane di distanza dalla resa dei conti, Patanè, uno degli attaccanti principali della squadra, ci parla delle possibilità del suo team nella finalissima e analizza insieme a noi la natura ambivalente di questa attesa, che potrebbe sia riposare i muscoli che raffreddare la mente. Il gruppo è quello che fa della nostra forza l'arma in più in campo e poi i tifosi che ci sostengono anche fuori casa ed è un piacere giocare con 100, 200, 300 anche tifosi a seguito. Ne ha parlato anche il mister, nel vostro modo di essere atleti e di vivere la partita, queste settimane che vi separano dal big match, dalla finalissima, saranno più di inattività o di riposo? Ma di riposo secondo me, perché quando non giochi da diverse settimane è poi difficile ritrovare l'equilibrio. Noi infatti lo paghiamo perché quando siamo tornati dalla sosta, abbiamo giocato al Tre Castagne, abbiamo fatto una bruttissima partita e abbiamo perso. Poi quando si è stata la pausa di Carnevale, che si è fermato il campionato per due o tre settimane, abbiamo pareggiato da Scicatena, quindi per noi è un riposo. La promozione è comunque assolutamente alla vostra portata? Sì, siamo consapevoli della nostra forza e aspetteremo l'altro spareggio per vedere chi affrontare, ma al massimo delle nostre forze.